La capolista Teramo nel suo lungo percorso verso la Serie D va a rendere visita all'Angizia Luco in un momento particolarmente difficile per la compagine marsicana, che reduce dal pesante 3-0 rimediato nell'anticipo della scorsa settimana ad Alba Adriatica vuole riscattarsi. I biancorossi di Izzotti invece sono lanciati verso la vetta e galvanizzati dalla vittoria nello scontro diretto contro il Montesilvano vogliono continuare a correre da soli senza subire il ritorno degli inseguitrici. Tre locali assenze pesanti come quelle di Cascere che è squalificato e Ciapprini infortunato, mentre tra gli ospiti Fiorotto parte dalla panchina e il tandem offensivo è composto dalla coppia Orta-Tahua. Pubblico numerosissimo sugli sparti che non verrà assolutamente deluso, infatti il primo episodio importante arriva al secondo minuto di gioco con il vantaggio dei biancorossi. Orta elude la trappola del fuorigioco e Di Piatto batte Biancone e l'1-0. L'angizia Luco però non si demoralizza e otto minuti dopo, per la precisione al decimo, trova il pareggio. Bel calcio di punizione è battuto da Cannatelli e nel mucchio sbuca la testa di Angelini che mette nell'angolo basso Castorani non può nulla. Gli angiziani sono galvanizzati, fanno circolare bene la palla, ma il teramo è cinico e al ventesimo ecco il raddoppio ancora una volta con Mario Orta che in diagonale fulmina Biancone dopo essersi liberato da un avversario. Le azioni più importanti del primo tempo finiscono qui, Mario Luco non molla, fa circolare bene la palla e crea più di un'apprezzione a Castorani che però non si spaventa più di tanto. Poi nella ripresa accade l'incredibile, andiamo però con ordine, al quinto minuto tiro di Tiberi da ottima posizione che Castorani blocca. Il teramo cerca di addormentare la partita, non subisce più di tanto, il luco fa quello che può, gioca bene a calcio e quando può riesce a rendersi pericoloso, fino al trentasesimo quando comincia il cucurullo show. Il numero 18 Biancazzurro approfitta di una paperaccia di Castorani e di sinistro in diagonale regala il gol del 2-2. La partita si infiamma, al 43esimo ecco l'incredibile grazie ancora una volta al giovane Cucurullo che ruba palla e lascia partire una conclusione sempre di sinistro sotto l'incrocio dei pari. È il gol del 3-2 ed è il delirio per i tifosi di casa. I Biancazzurri si rintanono nella propria area di rigore a difesa del prezioso vantaggio, il teramo fa quello che può ma al 48esimo in contropiede il match viene chiuso definitivamente ed è ancora una volta Cucurullo che di prima intenzione lascia partire una conclusione di destro sul quale Castorani non può nulla. E' rapoteosi per i ruchesi che festeggiano una vittoria prestigiosa ma soprattutto meritata. Mister Di Paolo a fine gara fa fatica a esprimere la sua gioia ed il suo orgoglio mentre Zotti recita il mea culpa ma se la prende anche con alcuni, tra virgolette, fattori esterni. Noi siamo una squadra che sa che si deve salvare, oggi forse abbiamo trovato nell'intimo forse delle qualità, delle risorse che io non speravo. Alla fine stavamo giocando con quattro punte, ecco il calcio è anche questo, questo giocatore di prima categoria oggi si inventa una tripletta con un quarto d'ora e il calcio è anche questo qua. Io credo che è anche meritato perché io ho visto che il Teramo nel secondo tempo parlando con molta obiettività si è tirato un po' indietro. Purtroppo quando a fare la gara sono dei fattori che non sono quelli di gioco, è normale che diventa tutto più difficile. Voglio solo menzionare una simulazione su Fiorotto che ha il naso rotto, è una dimostrazione che forse qualcuno al di là di noi, perché noi abbiamo sbagliato, per l'amore di Dio, e io per prima perché sono allenatore, ma credo che un giocatore con il naso fratturato e una manipolazione dimostra che forse in quei 20 minuti non solo ha sbagliato il Teramo ma qualcuno non ha fatto il proprio dovere. Quindi direi che si sta riferendo ad un errore arbitrare quindi? Non solo, anche altri fattori che non mi sembra giusto a caldo poter dire in diretta, penso che qualcuno ha visto, ci sono troppe situazioni strane che si ritorciano contro il Teramo, non va bene così.